ciao a tutti gli amici di the room view eccomi qua di ritorno con dei nuovi unboxing e oggi vi vado a mostrare la steelbook 4k di polar express uscita nel mese di novembre ma io ve la porto solo oggi un po in ritardo ma comunque vado a mostrare devo dire che esteticamente è una gran bella steelbook e guardate che bella l'immagine a figura intera all'interno ovviamente troviamo anche un bel artwork interno e i due dischi il disco 4k e il disco blu ray inutile dirvi che si vede molto molto bene il disco 4k ma il blu ray che è il vecchio blu ray si difende comunque alla grandissima e gli extra ovviamente sono gli stessi del passato bellissimo film di zemeckis con protagonista tom hanks in versione digitalizzata diciamo animata ha comunque un ottimo film natalizio è una steelbook che trovate un po ovunque io vi lascio il link in descrizione amazon come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e mettete la campanella per stare aggiornati sempre sull'uscita dei prossimi video e noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao ciao a tutti